Nella settimana del nuovo DPCM e dell'atteso cambio di passo sui vaccini, la prima svolta del governo Draghi arriva con la nomina del nuovo commissario per l'emergenza. Il presidente del Consiglio ha nominato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo al posto di Domenico Arcuri, al quale, si legge nella nota, vanno i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Un cambio che era nell'aria sin dai giorni dell'insediamento del nuovo esecutivo e arrivato in quella che potrebbe essere una settimana di svolta, soprattutto per il piano vaccini. L'accelerazione della campagna vaccinale, ha detto il ministro Speranza nel lanciare l'allarme per l'aumento dei contagi in Italia, ci consentirà di uscire in modo strutturale dalla pandemia. La strategia sui vaccini prevede un ruolo sempre più centrale di Palazzo Chigi nella campagna anticovid affinché protezione civile ed esercito siano pronti ad intervenire per limitare eventuali gap nelle regioni. L'ospicio è di procedere fino al ritmo di 500.000 dosi al giorno già ad aprile, quando dovranno arrivare anche le prime dosi di Johnson & Johnson. A non cambiare è invece il rigore delle misure contenute nel prossimo DPCM. Servono decisioni coerenti rispetto alla sfida che abbiamo di fronte, ha ribadito il ministro della Salute, chiedendo ancora uno sforzo per uscire dalla pandemia.